I maschi sono abbastanza limitati, diciamocelo chiaramente, nel senso che hanno solo una forma di intelligenza, che è l'intelligenza logico-matematica, che è la stessa che si sviluppa nella scuola, sviluppa solo questo tipo di intelligenza. Non c'è solo questo, c'è anche un'intelligenza musicale, un'intelligenza artistica, un'intelligenza psichica e via di seguito. Cosa succede? La donna invece, oltre all'intelligenza logico-matematica, ha anche un'intelligenza intuitiva, percepisce come va a finire una certa situazione, oppure ha anche un'intelligenza sentimentale, perché il sentimento non è solo una cosa che si sente, è una facoltà cognitiva. Quando la donna utilizza l'intelligenza intuitiva o l'intelligenza sentimentale, si sente dire dal marito ma tu sei pazza, ragiona, riportati alla logica. Ma non è che non ragiona la donna, sei tu che sei limitato, hai un solo tipo di intelligenza, ti regoli solo su quello e quando uno ne usa un'altra, magari più utile in quella circostanza, tu non la capisci, non è pazza.